ragazzi eccoci qui di nuovo prima di fare il 22se episodio di banana kong andiamo a guardarci le previsioni vediamo ok va bene per oggi non previsioni da lunedì alla domenica parte che è il 22 se vengo back on oh ecco qua neve deboli di dino hunter pioggia di un po di nuova su angry shark evolution angry dragon e un po di e non è proprio sereno c'è una nuvola ok quindi dovremmo trovare un po di ombra nella giungla beh che dire usciamo andiamo a cliccare l'applicazione di banana kong e andiamo a giocare il 22esimo episodio ok dobbiamo cliccare gioca e ora dobbiamo andare a cliccare l'applicazione banana kong dove ecco acqua andiamo ragazzi eccoci qui nel 23esimo episodio vediamo cosa possiamo fare completiamo le missioni è troppo ragazzi comprare i cappelli sono le moto che passano se sentite un rumore così capito oh e basta oh e basta quando ragazzi queste moto mi dì ragazzi è colpa del moto ho perso riprovo mi dì ragazzi mi dì ragazzi mi dì ragazzi mi dì ragazzi con riproviamo dopo di questo un video diverso ora è edadando Grazie a tutti. Ancora. Cediamo la spiaggia, raga. Il razzo preso. Vediamo se prendiamo la stella come prima. Se non riusciamo a prendere niente nei serpente o il razzo o qualunque cosa, c'è ritornata la stella. Non riusciamo a prendere niente. C'è ritornata la stella, i grossi. A seconde è ritornata. Non riusciamo a prendere. Non riusciamo a prendere, non riusciamo a prendere. Non riusciamo a prendere. non ci vedo bene ve l'avevo detto raga non ci vedo bene per un bello non mancavo il serpente non ci vedo bene tipo gli occhi appannati ora si va a casa a prendere il tunnel 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 Grazie a tutti. 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 Vediamo che riusciamo a combinare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non ho più la stella, ragazzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vinal Manned è ritornata la stella Grazie a tutti 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 Grazie a tutti